Ammari porta a questo titolo il progetto che diventerà nelle prossime settimane anche un'esposizione di foto del fotografo Antonello Veneri, presentato ieri sera a Sciacca, una mostra dedicata al gemellaggio tra le città di Sciacca e Salvador de Bahia. Ammari perché è una parola, diciamo, ci abbiamo pensato diversi giorni che unisce un po' le due realtà, perché ammari in siciliano nel dialetto significa al mare, andiamo al mare, mentre si capisce anche in portoghese, portoghese e brasiliano, se io dico ammari loro capiscono che si va al mare e nello stesso tempo in portoghese c'è la parola amarrar che significa unire e quindi è polisemantica questa parola, per cui credo che concili un po' le due realtà che hanno il mare in comune, sono due città di mare e due città di cultura di mare, è questo l'elemento, tra l'altro con delle coincidenze incredibili perché c'è l'uscita della Madonna del Soccorso che sono due all'anno, una il 2 di febbraio che coincidentemente, ma forse il destino non è una coincidenza e a Salvadori il 2 di febbraio c'è un'uscita importante della religione afro-brasiliana, il candomblé che è sincretizzata con il cattolicesimo e c'è sempre questa nostra signora. Sono due realtà in cui gli opposti camminano assieme, hanno bisogno l'uno dell'altro, io mi riferisco ad esempio al sacro e al profano, e quindi vedo che sono due terre estreme, nel senso più bello del termine, io amo gli estremi e quindi vedo che gli elementi di questi estremi, che possono essere il sacro e il profano, la notte e il giorno, hanno bisogno l'uno dell'altro. A Sciacca ieri sera Antonello Veneri ha presentato anche un altro progetto curato con il collega Luca Chistè, Viaggio in Italia dal Brennero alla Sicilia nell'Italia del post-covid, un racconto fotografico che diventerà presto una mostra. È un racconto che cerca di definire attraverso due diversi sguardi, quello di Antonello e il mio, siamo legati da profonda amicizia oltre che da una comune esperienza professionale che riguarda la fotografia, l'Italia del post-covid, cioè due identità fotografiche, quella di Antonello che parte dall'esperienza delle persone, quindi racconti prevalentemente biografici, indagati con un approccio quasi di natura etnografica, attraverso non solo l'immagine ma anche interviste su eventi, luoghi, accadimenti specifici di determinati luoghi, e invece la mia parte che è molto più legata al tema del territorio e del paesaggio. I luoghi sono moltissimi, francamente abbiamo perso il conto, più che altro è rilevante le regioni, nel senso che a parte il Piemonte che era un po' troppo ad ovest e il Friuli Venezia Giulia che era un po' troppo ad est, tutte le altre regioni sono state interessate da questo lungo viaggio che ha la caratteristica di essere un viaggio circolare, partito dal confine del Brennero che arriverà fino a Palermo per poi ritornare a Messina e mentre nell'andata abbiamo seguito un itinerario seguendo la dorsale tirrenica, al ritorno seguiremo la dorsale adriatica. Che se ne sta lasciando questo viaggio? Ha lasciato molti ricordi, molte testimonianze e due indizi molto profondi, il primo è che la gente ha voglia di fare, cerca di far bene e sta cercando di lottare per, tra virgolette, sopravvivere. Io ho raccolto un'esperienza, ma sono molte quelle che ha raccolto anche Antonello, personale di un'artigiana di Volterra che lavorando l'alabastro mi ha detto una cosa molto importante, l'obiettivo per quest'anno è resistere, dal prossimo anno cercheremo di ripartire.